Sabato 24 alle ore 18 io mi auguro vengano tantissime persone da tutta la Sicilia e so che verranno anche persone da fuori dalla Sicilia per quello che è la prima e grandissima attività del cinquantennale dell'apertura del museo. L'inaugurazione del nuovo allestimento del secondo piano abbiamo restituito con un lavoro veramente importante per il quale ci saranno tanti ringraziamenti da fare e che faremo nell'apposita conferenza alla città alla fruizione delle persone un secondo piano fatto di tantissime opere di arte contemporanea che renderanno lustro ancora di più al museo Guttuso. Unico museo o tra i pochi musei in campo certamente europeo ad avere delle solide radici che affondano nel nostro migliore passato e che ci dà uno slancio verso quella che è la contemporaneità e il futuro. Ma questo non sarà l'unica occasione di festeggiare il cinquantennale. Ci sarà l'anteprima del video promozionale del premio Davide Donatello Nico Bonomolo, un insieme di conferenze tenute da diversi artisti importanti che trovano esposizione al museo. presenteremo le tante donazioni che abbiamo ricevuto, presenteremo quello che sarà finalmente un catalogo rispetto a questo nuovo allestimento dove trovano la locazione i tanti artisti da Musti al 2010, alla collezione da Nao Sincla e tantissime altre donazioni che ci sono state. Non cito tutti per non sbagliare. Ho ancora chiaramente l'occasione di poter fare due conferenze perché sono anche i 50 anni della Vucceria, una che avrà svolgimento al rettorato possibilmente, e una qui al museo in collaborazione con l'Università di Palermo e Marco Carapezza. un catalogo finalmente per dare dignità alla collezione dei manifesti che sarà curato da Emiliano Monreale, manifesti cinematografici che hanno una bellissima sede qui al museo. E quindi tante importanti manifestazioni che festeggiano come si deve questo cinquantennale e rilanciano sicuramente la potenza del museo guttuso.